E poi fai il gesto della roccia, così. Capito. Capito cosa? Il modo giusto di usare i bracciali. Gormiti! Potenza degli elementi! Forza della roccia! Combatti, Karak! No! Sì! Guardiani, è fantastico essere tornato. Onda oscura! Grande, Gred! Spacca i pietri! Oh, no! Ben fatto! Dammi il secco! Sei il migliore, Trek! Io sono il migliore soldato di sempre. Il padrone Voidus mi darà un sacco di cose brillanti. Wow! Bene, guardiani. Questa volta sono veramente la vostra fine. Lord Xothor! Sono il miglior soldato di sempre. Guardi. Trafica! Trivennero tanti! Sono così potenti! Mi chiedo se darli a Voidus sia davvero la cosa giusta. Non lo è! La cosa giusta è ridarli a noi. Che cosa? Vuoi darmi il quarto frammento per completare la mia collezione? È gentile da parte tua. No, io ho detto che la cosa... Gratus scherza, Trek. Oh, sei tu lo scherzo, testa dura! Avanti! Comincia a scappare! Progello ordente! Toro foglioso! Non smuoverai un gormita della roccia, Kratos. Forse non posso smuovere te, rocciopatomo. Ma che mi dici del tuo guardiano? Flagello impetuoso! Oh! Ops! Hai perso il tuo frammento e la concentrazione. Flagello ordente! Roccio, vento, ghiaccio e fuoco! Prendere i frammenti è stato in gioco! Cosa? A occhi, ora! Cinque! Cosa? Ah! Molto divertente! Go! Gormiti raggiungibili! Chi mi fermerà? The level is back! Legend is back! Gormiti! Dormiti! Dormiti! Gormiti! Di